Discipline.it Il nuovo sussidiario per le classi quarta e quinta di Elena Costa, Lilli Doniselli, Alba Taino Gruppo ricerca e sperimentazione didattica Tutti per uno, uno per tutti Con Discipline.it costruiamo l'unitarietà del sapere per conoscere e capire, studiare e riflettere Così saremo sempre coinvolti e impareremo un metodo di studio Quattro discipline, una sola rete di sapere e competenze Come? Discipline.it ci offre tutti gli strumenti Entriamo negli argomenti e mettiamo a fuoco i punti salienti per riassumere i contenuti Impariamo a studiare attraverso il pensiero computazionale Utilizziamo le conoscenze per interpretare la realtà ed anche la matematica Comprendiamo le regole perché analizziamo con metodo e aguzziamo l'ingegno Ecco i quaderni operativi Impariamo a studiare, consolidare e rielaborare le conoscenze Esercitiamoci e operiamo come un vero matematico Svilupperemo la logica E le scienze? Sperimentiamo per capire Quanto sono importanti le mappe per riorganizzare, studiare ed esporre quanto appreso Ecco le verifiche Troveremo il livello adatto a ciascun bambino e l'autovalutazione Voglia di andare alla scoperta delle tradizioni regionali? Approfondiamo con l'Atlante E facciamo tante attività con il lapbook E se abbiamo qualche difficoltà? Per ciascuna disciplina potremo fare un percorso facilitato Le discipline Tutte per una Una per tutte Per costruire l'unitarietà del sapere